Ok, cerchiamo di passare il cancello pedra merda. Originale. Dritto al punto. Avviciniamoci a dare un'occhiata. Idioti. Vi siete fatti peric... Secondo me i tizi corazzati stavano rapinando la banca. A cavolo. È come in quel film. Quale? Quello con i rapinatori sorfisti. Ah sì, bellissimo quello. Perfetto. Grazie, caro. Guarda quanti soldi. La sacca è piena. Cavolo. Nel vecchio mondo avremmo svoltato. Saremo ricche. Hanno assaltato la banca il giorno del contagio. Però... Che cos'hai qui? Qui abbiamo già preso tutto. Wow, un carro armato. Non è così. Dimensioni passati. Non è così. Qui le poto. Che cos'è per accedere. Questa cos'è. Saremo ricche. Questa cos'è per accedere e lo stupendo. Che cos'è per accedere. È triste. È facile, tranquilla. Io ho l'ansia nel sangue. Ellie? Sì? Sai cosa stai facendo? Credo di sì. Sì. Arrivo! Interessante. Secondo te il regge? Non lo so. Attenta. Andata. Ehi. 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 Grazie a tutti. Accidenti. È proprio bello. È proprio bello. È proprio bello. È proprio bello. Dove stai andando? C'è qualcosa qua giù. È proprio bello. Sì. Abbiamo fatto scorte. È proprio bello. È proprio bello. Sa di merda bruciata. Infatti. Altro che gusto acquisito. Tutto ok? Questa cos'è? È proprio bello. Che cacchio. È questa. Vediamo cosa c'è qui. Sì. Cos'è questo posto? Sembra qualcosa del VLF. Cos'è quello? Propaganda del VLF. Mi ricordano le luce Boston. Nel New Mexico c'erano quei bastardi dei corvi. Si definivano protettori della Costituzione. Guni e Ghost sarebbero impazziti qui. Sì. 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 Potrebbe andare. Cazzo, occhio Ellie. Tranquilla. Regge. Facile. Coraggio, Dina. Bene. Coraggio, Dina. Spero che tu ce l'abbia fatta. Qui c'è stato un massacro. Se l'ha cercata, direi. Può tornare utile. Cosa dice? Doveva essere un comandante della Fedra. Il VLF le aveva cerchiate e stavano fuggendo. Quanti saranno se sono riusciti a sconfiggere l'esercito? A volte bastano pochi uomini, ma spietati. Dobbiamo stare attenti. Cerchiamo di usare la Fedra. Ok, Jesse. Quello qui. Vecchi appunti. Vecchi appunti. Grazie. 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 Grazie.